a fabrizio montini un bentrovati ad un nuovo appuntamento con il becca jazz club il podcast dedicato al jazz inteso nelle sue innumerevoli accezioni sfumature contaminazioni che giunge in questa nuova puntata della stagione 2020 2021 dopo aver esplorato territori anche inusuali di cui si sente però recentemente parlare come quello del jazz losangelino grazie ad un maestro come ora stapscott che abbiamo in qualche modo trattato grazie alla competenza di fabrizio spera nell'ultima puntata e ancora prima una monografia in due parti che vi invitiamo a recuperare dedicata a rosario giuliani che è stato nostro ospite si è raccontato ai nostri microfoni rispondendo all'intervista che io e dario germani abbiamo realizzato con lui sigla post produzione e commento musicale sono di dj naff becca jazz club di oggi invece è dedicato ad un nuovo talento della scena jazz italiana un pianista umbro diplomato al conservatorio morlacchi di perugia interessatosi presto alla musica jazz grazie all'insegnamento e all'avvicinanza davvero di un grandissimo maestro ramberto ciammaruti e questo gli ha permesso di collaborare con molte formazioni tenendo concerti sia in italia che all'estero dal 2014 fa parte dell'orchestra nazionale dei giovani talenti del jazz organizzata dal teatro puccini di firenze siena jazz e music pool costituite da migliori studenti del dipartimento jazz di tutti i conservatori d'italia con la quale ha già suonato in importanti palchi come lo streller di milano e l'obio di firenze manuel poi ha vinto anche i riconoscimenti nonostante la sua giovane età una borsa di studio farà music festival per studiare al collective school of music a new york e allora ricominciamo la nostra playlist prima di averlo qui ai nostri microfoni per parlarne direttamente con lui dal suo ultimo disco appena uscito per encore jazz si intitola dreams manuel magrini trio questa è fuori dal coro al becke jazz club musica 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. ...to disappear ...my eyes are dancing in delight with you ...it's so surreal, not so magical ...I'm here on this merry-go-round home ...but you're just afraid, my dear ...nights are so mystical ...I can't believe that you're far away now ...no stars are guiding me, but now I see ...what I was expecting him for ...is there, is you, or my ...my ears are dancing in delight ...I'm here on this merry-go-round home ...I have a hand in delight ...I have a hand in delight Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. che arriva dal disco di debutto di Chiara Orlando Quintet si titola Place of Stillness e lei è davvero un'artista che ha dimostrato già di aver assimilato il messaggio dei grandi maestri per cercare di avviare una propria personale espressione artistica una propria riconoscibilità in questo disco Chiara Orlando e Emanuele Magrini si fanno accompagnare da Antonello Sorrentini alla tromba e filicorno Pietro Ciancaglini al basso e Valero Vantaggio alla batteria siamo dunque arrivati alla conclusione di questo speciale Baggage Us Club dedicato a Manuel Magrini ed è con una traccia estratta dal suo ultimo disco intitolato Dreams per Linecore Jazz che vi salutiamo una traccia che riassume l'estetica di questo concept album che è a metà tra il viaggio è il sogno tra l'immaginario e se vogliamo in qualche modo l'onirico e le esperienze vissute si intitola Rain in Oslo ed è un auspicio anche di poter tornare presto tutti a viaggiare da Fabrizio Montini comunque un appuntamento al prossimo podcast perché noi continueremo senz'altro a farvi viaggiare attraverso la musica ciao dal Baggage Us Club Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti i nostri spettatori